ciao a tutti non sono alienozzo benvenuti nel primo alien games della memoria mamma mia ragazzi c'è un mega uovo vabbè niente dov'è sto sole ragazzi ecco di qua scrappi al sole al sole gente allora adepti scusate un attimo che non si sta capendo assolutamente nulla io sono alienozzo non so se l'ho già detto qui con noi c'è il miticissimo scrappicocco ciao man che come avete come vi ricordate è il nostro mitico fondatore di discord e ovviamente insieme a noi c'è quella sega di scrappi ti vedo c'è quella sega dell'imperatore papatina ciao man ok allora ragazzi io ho il kit barbare quindi siamo io ho una chest plate in pelle da regalare ma scrappi ma sei te quello stai fermo vieni qua sei te si corri aspetta che prendo un po' di fuori ma c'è uno là dove siete vabbè scrappi verso la piramide vicino alla piramide ok ragazzi allora scrappi al kit arciere luca al crit paladino come il kit cioè dovevi essere il kit minatore vabbè ma qual cacchio che faccio il minatore perché devo fare il minatore perché se quello che merda poi scrappi prendi un po' di cibo adesso non moriamo ma sta arrivando un sacco di gente ma quanto manca al macello scrappi scrappi via 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 corri 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 vieni 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 oh ragazzi qua c'è un crepaccio qua c'è un buco ma dove siete voi ho perso la piramide e non ho perso no scrappi qua è fantastico scrappi dove sei ma sono caduto cacchio aiutami non mi vedo tu non mi arrivo aiutami dammi un po' di terra arrivo arrivo nasconditi nasconditi vieni qua vieni qua chiudi chiudi resta giù resta giù ma luca luca muore sicuro una pippa no non andare là non vedo nulla io scrappi non vedo nulla ma vabbè scrappi siamo in due dai non dobbiamo farci prendere dalla che pippa luca dove sei non parla io sono disperso nel mondo no luca non morire non morire sennò ti uccidiamo seriamente scrappi mi raccomando ma aspetta scrappi ma quello è uno ah no è una pecora mi ha fatto cagare in mano a pecora andiamo scrappi ci sei posso darvi le coordinate mi cercate no non le so usare scrappi usare le coordinate per fare dei problemi ok dai dimmi ma devo star fermo quindi per forza è in quella zona si che dici se no te le diamo noi della piramide ma guarda scrappi guarda quanti nerdoni che ci sono tutti che si sono fatti camperissimi no allora scrappi luca siamo dove c'è la piramide piramide non la trovo ormai la trovo raga ma voi sta leggando quel tantino non solo a me no a me sta leggando non leggando si è bello simpaticissimo con le battute ok allora adesso andiamo verso la piramide c'è uno sotto la piramide vedo un nome dai tu sei alla savana a voi c'era visto la piramide aspettate che arrivo non ce l'ho vista scrappi sta attento scrappi coprimi coprimi no attento scrappi c'è uno che sta arrivando di qua scrappi sto laggando scrappi ha fatto una screzzazione scrappi scrappi aiutami ma vai a quel paese va stavo laggando tutti gli adepti vedranno che sono in ragione tu stai zitto e io sono vivo scrappi offendilo offendilo per favore di qualcosa no dai c'è non è possibile l'offenderò quando morirà va bene dai adeptissimi ci sentiamo tra poco fall of the sun ragazzi partito meno a registrare si cioè gliel'ho detto da sette ore che continui a registrare vai 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 via via pronti verso il sole vabbè ma hai dei problemi te comunque allora ha visto scrappi eccoti no sei tu sei tu sono dietro sono dietro non preoccupare vai 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 c'è il nome alienozzo lui ha visto invece ha letto scrappi mamma mia che problemi che c'hai vai oh piantano di urlare guarda quello col cavallo quello col cavallo questo è uno scioppone è uno scioppone ma che andiamo di là verso la roccia di qua verso la roccia dai seguiamo scrappi ragazzi ma si uccidessimo quello col cavallo non lo so allora ragazzi io sono col kit pescatore yuk col kit palpatina palatino e scrappi invece sei col kit minatore minatore giusto ok ragazzi ha già ucciso il cavallo questo ha preso un caccio gli ammazzato il cavallo davvero no è ferito è ferito ehi va bene grande man allora come si chiamava spirit cavallo selvaggio eh non lo so ma cosa sta facendo ma non lo so ci sta in oh maiale aspettate ho trovato una caverna attento attento c'è un player dietro che si nasconde a me a me o a te vieni luke devi stare vicino a noi dobbiamo difendere sono sotto di voi ok vieni 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 ci salta vai senza cibo ragazzi ce l'ho io ce l'ho io tieni un po' tieni il merluzzo cotto si chiama raga oh invisibili vieni qua vieni qua che c'è carbone invisibili raga mettetevi su invisibile piglia questi piglia questi tieni scrappi tieni luke ragazzi mi fate una fornace ho altro cibo ditemi quanto ve ne serve eh scrappi è piccoli tieni luke arriva la fornace un secondo eh ma non abbiamo legno per l'acqua ma che vigoli che siamo hai ragione no vabbè ragazzi va bene inizia a prendere il ferro non importa non importa prendiamoci i materiali piglia più ferro possibile poi togliamo usate un attimo ma la fornace non possiamo farlo no ma porca vacca voi difendetevi intanto cerchiamo il minerale ecco ma tu non hai nulla ragazzi io ho la canna da pesca eh scusate ma siamo sicuri che nella miniera non spawni il legno eh se troviamo una miniera sì però ragazzi questo era un deserto io non ho visto legno alberi in giro eh ma che proverai ad andare tipo verso giù perché tanto verso spugini eh ma sei sicuro eh sei sicuro fai uno scalino che va su scrappi se no non ce la faremo mai trovi una miniera abbandonata siamo fottuti come siete messi di cibo raga bestia io cool grande grande oh vi ho dato due pesci li avete belli cotti sì merluzzo cotto raga colazione merluzzo cotto tutto il giorno stiamo attenti tu non hai nessuna arma scrappi sì ho una spada di legno eh anch'io ah ma qui c'è la dannata gravel vabbè buono buono se trovi la gravel buono ragazzi guardo dietro eh sì sì bravo bravo questo qua eh ecco però non mi starà addosso yuk allora dettissimi quindi volevo dirvi che questo è un video un po' così un video random perché il video speciale in verità uscirà tra un po' quando tutti avrete capito di entrare su discord giusto man ovvero scrappi dai dai che c'è la dirty ragazzi lo sapete vero che finiremo contro il full diamond tra poco chiaro chiaro vuole la nostra spada di legno vedo la luce luca oh siamo davanti alla foresta abbiamo legno che culo andiamo ragazzi vai 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 oh scrappi ricordati il posto che tra poco ritorniamo eh metto metto un posto per ricordare io prendo legno luke tu uccidi sì sì allora luke ci vuoi raccontare una varzelletta no no aiuto scappa 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 con cavallo ma porca di quella racca guarda come come sta scappando no scrappi adesso ti vendico vieni luke vendichiamoci guarda arriviamo lo giro me lo giro lo giro mi faccio vai 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 no per scrappi ragazzi ma quanto sta correndo non l'avevo minimamente visto ci sta staccando tutta una tattica dici che poi ci colpisce ai fianchi il like quando siamo stanchi non possiamo correre ci attacca man siamo io e te ancora dove sta dove sta vi faccio io ed aspettate dall'alto grande scrappi grande scrappi è davanti a voi praticamente come ghost vuole un palparcino là 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 ah lì è davanti a te no no man dobbiamo ucciderlo sto infame ha lasciato un po' di materiali per terra ed è scappato sì ho visto ho visto ho visto ma che man ma che ma man uno si è tippato qua e poi è scomparso e sarà un admin vai 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 chi è che ti avevo ucciso scrappi è il tipo con cavallo ma ti ricordi il nome lo vedi non lo vedo io no scrappi se lo vede ah si te è quello vai piano scappi acca parolam acca parolam no è morto ah no c'è 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 scusami c'è sta attento luke non vedo nessuno e ma c'è bene un caion ci farei imbuscate questo beh lo so man no no non c'è nessuno vicino a voi attenzione c'è uno solo lì il nostro angelo custode sembra allo versione pixelosa man dove stai andando di qua di qua è bellissimo vedi qualcuno no 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 ve lo dico se non vedo qualcuno eh ma cacchio ha rubato tutte le cose di scrappi sto infame man dobbiamo vendicarlo assolutamente cavallo infame per te se lo levano grande però io non ho aspetta luke facciamoci due spade in pietra almeno due spade in pietra stai fermo sì 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 se no questa cinchiappetta sì vabbè ma che non c'è pietra qua man io c'ho la workbench e basta ma la pietra ce l'hai? sì c'ho la pietra eccolo lì il legno il legno vieni dai luke ti faccio due spadine thank you tecnico tattiche ah no aspetta ce ne ho solo uno tipo restirolo man non ce n'è una cosa avete un canyon vicino se volete sì non abbiamo il piccone eh ma vatti fatti tre quattro picconi e basta man dai dove sei? qua dietro di te vai eh qua scrappi? no è alla sinistra di luke no ma si sta avvicinando il limite del mondo ma non ci schiaccia dopo perché si avvicina non si avvicina mica si avvicina a meno quando inizia il corso si avvicina sei sicuro? sì ti ricordo l'ultima volta che sono rimasto schiacciato no ma quello ti stai confondendo con le speedwack cime dici si per forza qua scrappi? no 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 dietro esattamente dietro di te luke aiutami sono caduto da sempre bla ciao esattamente dove sta andando luke cacchio luke c'è il player luke dove dove? scappa 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 aiutami che scappa via di chi? dai via scappa scappa come i codardi io non scappo perché devo vendicare scrappi occhio salto dai man attacco laterale guarda lo che aiutami si ma davvero man mangia mangia rifornisciti cavallo infame per te sono la presa vai dai man questo ci vuole uccidere dai dai che stretto no è troppo forte cavallo no no scappa al fattore dai porca vacca ma è vero troppo veloce non lo raggiungiamo mai dobbiamo incastrarlo ben è come se mi assi di pesce a bestia vai tranquillo ben come facciamo dobbiamo fare una tecnica fai aggiralo aggiralo dove sei? dove sei? ci sta per man stai vicino facciamogliela imboscata shifta shifta va bene shifto scrappi dove lo vedi? scrappi sta arrivando eccolo eccolo man vai vai man vai grandissimo vai via di lì cosa colpisci me? dai se un pirla sei ucciso no chi se ne è si è dato fuoco pure lui si ce l'abbiamo fatta abbiamo vendicato scrappi grande grande man prendiamo il cavallo fuggiamo prendi il cavallo man vai ci sono sono sul cavallo man non sto male non sono mai andato sul cavallo non sono mai andato sul cavallo scrappi non sono mai andato sul cavallo che bello come si fa? devo uscire dal cavallo? shift ma puoi venire insieme a me in groppa prova? no no vabbè niente ragazzi via questi intanto dai hai visto scrappi che ti abbiamo vendicato oppure il tuo piccone man in ricordo man cosa rubi? aspetta che allora mancano tre persone quindi siamo rimasti ne manca solo uno Luke eh tagliati sto cavallo che mi dà fastidio come ti dà fastidio? eh poi ho solo un cuore morto dagli da mangiare non abbiamo qualcosa dagli da mangiare ho il pesce non so se non mangiare il pesce e il cavallo man ascoltami un po' seguimi che andiamo cosa mangia il cavallo? il grano? non lo so eh se ti mangiare il grano basta trovare un po' di un villaggio lo rifulliamo ma c'è la fine del mondo si ma aspetta man ci serve del cibo per noi eh c'era un sacco di cibo to eh danno ci sono gli alberi vieni to 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 vieni to grazie ok ci sono le mucche mucche e pecore ma scusa il pesce è mica quello che ti ho dato io si ma ne ho altri due aspetta man allora dobbiamo cercare un cacchio di prendi il cavallo Luke prendilo dai che io non riesco adesso perché se no mi si vede tutto male vieni qua allora lì vedo del carbone io direi andiamo lì ci facciamo full e poi vediamo se riusciamo a sconfiggere cosa ne pensi Scrappy mi sembra un'ottima chance dobbiamoci ci ciara mentre stiamo qua al cazzeggio te lo dico dici si perché lui come bussola deve puntare a noi occhio occhio sta arrivando sta arrivando l'ho visto l'ho visto dov'è 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 va dritto davanti a me dritto davanti a me all'arco all'arco vabbè tu faglielo usare faglielo usare prima un po' le finisce attento arriva Luke vai Luke vai 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 Luke uccidilo Luke sto arrivando scappa vai Luke dai uccidilo sta faggando non so che sta facendo vai Luke uccidilo lo sto uccidendo un attimo sto bastardo dai Luke no mi ha ucciso Luke l'ho ucciso vai dai ce l'hai fatta no vabbè ragazzi se non riesci a uccidere Luke sei una pippa mostruosa stai seguendo stai calmo dai vai Luke vai Scrappy beh vabbè questo c'è l'enderpear man attenzione scontro epico si preparano vai Scrappy musichino di sottofondo guardate una spadina una spadina tattica dai ma ce la fai un attimo stai scattando mi ha tu nace quanti cuori aveva sto male sto male ti ricordo che sei ridicolo che sono morto dopo di te quindi ti sta nel culo bene quanto sei scarso sono morto dopo di te va bene dai quindi ragazzi mi raccomando commentate la scarsità di questa persona Scrappy vuoi dire qualcosa per difendere Luke eh non ho parole va bene quindi niente dai ragazzi sentiamo alla prossima Luke saluta niente si è offeso ragazzi basta chiudi sto video basta si è offeso allora ciao a tutti ciao 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 ciao